E' la tua puntata E' la mia puntata questa Perché questo è anche il mio format preferito Cioè? Le notizie fotografiche del mese Bellissimo ragazzi Ragazzi finalmente Finalmente è questo momento Penso che questo sia il mio format preferito in assoluto Perché? Perché è molto stupido E mi diverte un sacco Perché in giro nell'internet è pieno di cazzate E noi siamo lì a scovarle Pronti Con la lente di ingrandimento a scovarle una ad una E nel mondo fotografico le cazzate sono veramente cazzate forti Ma non solo Ci sono anche cose interessanti Cose serie Cose tristi Tipo? La prima notizia? Tipo la prima notizia Madonna Che è veramente molto triste per alcuni In realtà io il tag godo come uno stronzo E' triste per alcuni Ma è bella per altri Dipende Se avete investito su Instagram o no Fondamentalmente Vabbè comunque questa notizia di Petapixel Ci dice semplicemente una cosa Che a quanto pare da dei documenti interni a Instagram Le cose non stanno andando benissimo A naso non credo servissero dei documenti interni Per sapere questa cosa qui Tra l'altro non so se tu l'hai visto Ma l'altro giorno Mosseri ha fatto il box domande Come fa ogni settimana no? Si è preso solo degli insulti No 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 Ha risposto a tre domande E poi ha fatto una storia dove dice Scusate ma il mio box domande si è buggato E non posso rispondere a altre domande Perché non le vedo più Cioè è stato imbarazzante Che il CEO Ma non dire niente C'è la regola numero Non dire niente Ma fatti fatti tu Mosseri ma che cazzo fai? Ma fatti delle domande finte Non lo so Ma non lo so Ma esatto Ma non mettere il box e rispondi e basta Ma avete chiesto in tanti Lo facciamo tutti queste cazzate qui Niente incredibile Comunque fa questo fail Fa proprio una storia Scusate mi sento in imbarazzo Ma purtroppo il mio Instagram si è buggato Già lui può Tu pensi a quel povero uomo Già è la banderuola Che prende più o meno le palle di merda Da tutti quanti Lui da meta Lo mettono in mezzo a giocare a dodgeball E lo mettono in mezzo E gli tirano solo delle pallonate in faccia No E lui la palla Tremendo Comunque Questa notizia fondamentalmente ragazzi Riassume il fatto che questa grande competizione Con TikTok Che Instagram ha provato a lanciare Non sta andando benissimo Tra l'altro TikTok Che ha introdotto Be real su TikTok Veramente? Colpo di scena supremo Non l'ho ancora visto Si chiama TikTok News Dove non voglio saperlo Now Now non news Dalla legge ci dicono Now TikTok Now Seguitemi su TikTok Now Per sapere cosa faccio durante il giorno Comunque sta di fatto che Fondamentalmente non è servito a niente Questo lancio di real sta andando male Anche se appunto Instagram ci ha investito tantissimo E Secondo me il problema principale È Stato uno Ed è uno solo Il fatto che Peggio ancora di TikTok Instagram ha spinto su questa questione Dei trend E secondo me Come ho già detto più volte L'utilizza modello È stato la deriva di quella roba Secondo me il problema grandissimo di real È che trovandosi su TikTok Che è una piattaforma dove Fondamentalmente il tuo profilo È il tuo biglietto da visita Quindi avere un bel profilo È alla base di quello che fai Fondamentalmente I real sono molto diversi da quelli di TikTok Sono real molto più seri Molto più impostati Ognuno cerca di farli in linea Banalmente I TikTok che ho messo io Non li pubblicherei mai Su real Sì sì certo Perché sono Tremendamente distanti Da quello che è il mio profilo Eh ma Poi secondo me Tutta anche l'esplosione A parte il caso che c'è stato appunto Di illuminati Con quel post Che ruppe il cazzo Eccetera eccetera Secondo me l'altra cosa è stata Che molta gente Vuole continuare a usare Instagram Per fare foto Infatti i real Che vanno di più quali sono I tizi che mettono Prima della color correction Dopo la color correction Ma Sottolineiamo una nuova novità Che sta arrivando Che al momento qui Non ha nessuno Ma c'era solo una persona Ma perché ragazzi Cioè dovete sapere Che qui dentro abbiamo Letteralmente il padrone Delle novità Ovvero Matti Ah che novità ha Matti I post in 9 sedicesimi Ah Matti ce li ha già Matti ha i post in 9 sedicesimi Bella merda Bello Il feed Cioè sono felice È veramente una bella idea I post in 9 sedicesimi Sono già pronto a vedermi Tutte le foto Delle fighe in piedi In 9 sedicesimi Mi dobbiamo bloccare tutte le fighe Non è vero Eh per forza Ah tu dici Per forza Comunque La deriva di Instagram È veramente tremenda E io sono quasi sicuro Ma quasi sicuro Al 100% Che loro Torneranno Sui loro passi A un certo punto Perché secondo me A un certo punto Si cagheranno addosso Cioè Si Continueranno a rimanere i reel Continueranno a rimanere le stories Però palesemente La gente va su Instagram Per Instagram E Instagram stories Nessuno vuole vedere i reel Io non li guardo I reel fan cagare Sono orribili Cioè orribili Poi per me L'usa modello È veramente un crimine all'umanità Perché Cioè Non puoi cliccare Usa modello E tu inserisci Che la gente Che segui Cioè io letteralmente I tuoi reel Non li ho mai visti No 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 E poi secondo me TikTok è troppo forte Perché TikTok sta finalmente Introducendo contenuto A mio avviso Sta cambiando molto Come piattaforma E io la guardo E molte volte Non trovo più nemmeno Sai Il balletto Adesso in questo periodo Di elezioni Perché stiamo registrando Un po' prima Ragazzi E Ho trovato tanti contenuti Anche fatta da gente Sì 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 Bella quadrata Con gente Con Sta trovando veramente Il suo modo di Quello che fa Instagram Con i post fatti bene Prendo ad esempio Siti come Non lo so Factanza O Geopop Che prende Dei post fatti molto bene Su TikTok li ritrovi Fatti molto bene Ma a livello Video Secondo me funzionano Una bomba Perché TikTok Ti fa venire voglia Di guardare video Mentre Instagram Mi sono lì per guardare Dei post fermi Statici È un'app Secondo me più lenta Rispetto a TikTok Però sì Questa deriva Di real Cosa c'è nella tua Home di TikTok Mediamente? Io ho tanta roba Di tutorial Generici Dalla cucina Al lifestyle Le cose così Tantissimo Un po' di comicità Di roba abbastanza Black humor Eccetera E ogni tanto Mi capita qualche ragazzina E beh Come tu C'è TikTok No Nel mio Io non ho più Le ragazzine No? No Cos'hai? Io ho Politica Certo Calcio Certo Principalmente Napoli Grimbaud E le pannocchie Che salutiamo ovviamente Le pannocchie Quest'estate È stato Letteralmente Adesso ce la vuoi Delle castagne Tra poi inizia No ma non è così Giù le castagne Non si fanno Vabbè Comunque non ce ne frega un cazzo Ovviamente 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 Regina Gegé Invitata al podcast A parlare dei suoi grandi contenuti E delle sue pannocchie E dell'evasione fiscale Comunque No no Vedi che questa è un illazione Che non dovevi fare Tremenda Io non sono d'accordo Prendo le distanze Totalmente Denuncia a lui Andiamo avanti Manu Una notizia che ti ha sorpreso Quali sono le nostre grandi passioni Oltre la fotografia La figa Poi I soldi Poi L'astronomia Ah E L'astronomia Come non parlare Della nuova foto Del James Webb A Nettuno Per forza Si è messo uno Ha fatto una bella lunga esposizione Si è messo anche gli ND Mi hanno detto Si Mi hanno scritto un whatsappino Chi James Webb Che usa quelli della Freewell Sono variabili C'è la quelli magnetici Ho capito Esatto Perché sono comodi Ho capito Però guarda quanto è incazzato Nettuno Nettuno è incazzato nero Soprattutto perché è l'ultimo pianeta Del nostro sistema solare Guardalo lì Forse Urano Sai che non lo so È veramente molto bello Tra l'altro su Nettuno Mi sembra che ci sia una pioggia di diamanti Credo Se non mi sbaglio Possiamo andare su Nettuno adesso Non penso che sia Proprio un bell'ambiente Dato che è un pianeta gassoso Quindi non ci puoi andare Non fa male una pioggia di diamanti Penso che faccio un malecane Sì Soprattutto perché tipo A meno 200 gradi C'è una roba tremenda Io voglio vivere abbastanza Da poter andare su Nettuno Non penso che questo succederà Se qualcuno sta sperimentando La vita eterna Mi contatti Io metto corpo Soldi Tutto ciò che posso mettere Penso che tu non sia l'unico Comunque Super interessante questa foto È una foto Di cui non sappiamo Ovviamente spiegare Assolutamente un cazzo Però è un È bello È figo A me piace Ho scoperto che Mi piace tantissimo Vedere queste foto qua Sì È bello Però non quando mi fanno La Via Lattea di cui non me ne frega niente Cioè i cuglioni più o meno pieni Così delle Via Latte Però quando fanno queste cose qua Anche le foto di Giove Sono molto belle Sono allucinanti Io boh le guardo Dico Guarda questa roba qua Anche le foto che ha fatto a Giove Sono bellissime Con l'aurora perenne Il grande tornado Eccetera eccetera Sono meravigliose Guarda che spettacolo Bello Incazza Giove È incazzato No ma non come Nettuno Guardalo lì Guarda Aurora è perenne È una roba incredibile Comunque vabbè James Webb continua a fare foto Meno male Speriamo di vedere Questa tecnologia applicata Alla prossima settimana Street POV su Nettuno Street POV con James Webb Bellissimo Andiamo avanti Dove devo mandarla a mail Abbiamo delle novità interessanti Ma non vuoi parlare Perché se lo scorso episodio Abbiamo parlato di uscite fotografiche Una L'abbiamo messa Proprio per questa puntata Proprio per questa puntata Vogliamo vedere il trailer Sì In religioso silenzio aggiungerei Eccola signori La macchina Che tutti volevano avere Ma nessuno sapeva di volere La pieni due Ma È perfetta Vi ricordate che tutti quanti Rompete sempre le palle Che le camere sono troppo pesanti Troppo grandi Tocchina Insieme a Kenko Che a quanto pare fa Che è il partello di Kenzo Esattamente E che uno Non fa il profumo Fa vestiti Uno è andato a fare i vestiti Uno è andato a fare La pieni due La pieni due Ragazzi Finalmente è uscita La miglior fotocamera Per fare street Guarda c'è pure il telemetro Da stronzi Incredibile E scatta veramente Perché questa cosa qui La parte incredibile È che fa le foto Da un sensore da 1.3 megapixel Guarda lei quanto è contenta Di fotografare due pere Palesemente prese da Fukushima Ma fai video? Tra l'altro lei fa l'8K ProRes interno Tu dici che fa l'8K ProRes Ha un nuovo tempo di raffreddamento Oh però è f2.8 Eh beh Non si sa cosa vogliono dire Che se è scritte Tra l'altro se sei dal tonico Non puoi utilizzarla Tra l'altro Hai capito? Perché fondamentalmente Rosso è la modalità foto Blu è la modalità video E viola è la modalità Spia l'audio di tua moglie Mentre ti tradisce con E lei si illumina dentro L'oculare Cioè praticamente Metti l'occhio qua dentro E ti brucia l'iride Lei diventa Ma è legale questa cosa? Non lo so Non credo sia legale Non penso che almeno la Pini 2 sia legale Micro SD al volo Bellissima Bellissima Questo è un oggetto Purtroppo la volevamo comprare Per provarla Ma è sold out ovunque Si ricarica ovviamente Tramite comoda porta USB micro Beh chiaramente Per forza D'altronde È anche magnetica Perché ovviamente Questa sarebbe per spiare Palesemente qualcuno Io vorrei sapere esattamente Come fai a farti una foto Se una volta che l'hai attaccato su quello Perché non ha Nessun tipo di automatismo È come la serie M di Leica Quella senza schermo Ah tu dici che è come La Pini 2 È come un cambio Abbiamo i stessi colori Della Nikon Z Probabilmente Dato che ne hanno avvenuto Un cazzo di ZFC Hanno riciclato la plastica sopra Per fare la Pini 2 È molto probabile È probabile Io penso che questa sia Più bella di tutte le uscite Che hai presentato La scorsa puntata Va bene Comunque grazie Kenko Se ce la vuoi mandare Kenko Noi aspettiamo I commenti Approvazione Penso proprio di sì Per fortuna Lui si lamenta Che c'è la micro SD Perché voleva le CFA Le aveva già comprate un paio E non c'aveva E visto che parliamo di cose piccole Ce n'è un'altra molto piccola In questa lista Che è esattamente quella lì Questo concept inutile A quanto pare vivo Devi sapere Simo Che fa anche degli smartphone A quanto pare E sta brevettando In realtà Vediamo il video Questo è già il progetto Di come dovrebbe essere Il primo smartphone Con drone integrato Si apre Esce un drone E vola via Sai quando si dice Mi è volato via il telefono Il famoso detto Esattamente questo Sembra il titolo Di un video di bocce Ci sta Gianluca Se ci rubi il titolo È un casino Te lo dico Denuncia Cioè è tremendo Tu dici che quindi iPhone ha rimosso Lo slot per le sim Dall'America Per cominciare a sperimentare Questo Eh sì Ma la sim è qui Vola via Non prende più il telefono Vola via la sim Ma a un certo punto Vola via Cioè Posso dire che Mi sembra una cazzata Di dimensioni epocali Io vorrei capire l'utilità Perché dentro quel coso lì Non ci può stare oggettivamente Una fotocamera Non c'è invece Eh no Chiaramente Non per cagare Questa qua è palesemente La grafica del DJI Mavic 3 Allora ti dico Se la qualità è un minimo decente La qualità deve essere quella della Pieni 2 Se la qualità è un minimo decente Siamo davanti alla rivoluzione del millennio Comunque Io ci credo Io non ci credo Io ci credo Io ci voglio credere Un giorno avremo Un Mavic Pro con cui posso telefonare Scusa il mio telefono sta atterrando Mentre suona Sì pronto Pronto E poi te ne vai via così anche Bellissimo È agghiacciante Non penso che abbia mai questa qualità È impossibile Non credo proprio che vada neanche così Ma neanche così in alto Questo coso qui È grosso così Deve essere 200 megapixel di sensore Ma a naso Non penso Signore vivo Posso dire vivo Forse sarebbe arrivato il momento Di fare un telefono che vende Potrebbe essere questa un'idea Questo non penso che sia una grande Sì diciamo che Partendo dal presupposto Che non sanno fare manco i telefoni Vorrei sapere come sanno fare i droni Comunque questo è il vivo X 100 pro E visto che abbiamo parlato di cose vive Come vivo Parliamo di cose morte Un'intelligenza artificiale Bella questa gancia Lo so sono incredibili Un'intelligenza artificiale Ha ricreato Alcuni personaggi famosi Morti In fotografia Come sarebbero oggi Quindi c'è anche Berlusconi Non c'è Berlusconi Perché è ancora vivo Però c'è Freddie Mercury Che è diventato Bavarese A quanto pare Freddie Mercury Sembra un nonno napoletano No Freddie Mercury È J. Jonah Jameson Di Spiderman Diventa così Sai chi mi sembra Bet Mi sembra il colonnello Della KFC Ma coi capelli tagliati Messo apposto Però ce ne sono tanti altri Perché Ma su che base Ha fatto questa roba È perché Praticamente Lo fa Ho perso Il cursore Poi Abbiamo Cazzo è finito il cursore Eccoci qua Abbiamo poi Heath Ledger Heath Ledger Che Vabbè Mi sembra abbastanza uguale Sì in realtà Abbastanza coerente Mio fratello Janice Joplin Che è una donna Vabbè ma è mio fratello Perché vedi Non avevo pensato Ah perché praticamente Sì Poi Vabbè Andiamo avanti Michael Jackson Michael Jackson È diventato improvvisamente Jimi Hendrix Sì è vero È diventato Jimi Hendrix Ma perché Erano parenti Ah sì Quindi l'intelligenza artificiale Lo riesce a capire Kurt Cobain Che è diventata una Nonna calabrese Non so come sia possibile Ma Kurt Cobain Aveva origini calabresi Infatti si è sparato con un fucile In onore della Calabria Ah Una lupara Jimi Hendrix Che non è diventato Michael Jackson Ma è rimasto Jimi Hendrix È rimasto identico Semplicemente diventato Obama da vecchio Esatto E Nelson Mandela Ah tu dici Che la fusione Perché l'albero Generologico Era Nelson Mandela Jimi Hendrix Michael Jackson John Lennon John Lennon è bellissimo Tra l'altro Sembra uno di quegli uomini Ma cosa Elvis Presley È diventato Michael Schumacher Che Elvis Presley C'è Ragazzi Questo Se va in qualsiasi Ospizio Fa una strage Letteralmente Cioè devono chiamare L'FBI Penso Per portarlo via Vabbè Bruce Lee È diventato Il coso Quello medico in corsia Quello che risolveva Gli enigmi È presente Ma chi Come si chiamava il medico C'era un dottore Tipo Ah no Quello di scuola di polizia Quello di scuola di polizia Bello Quello di scuola di polizia E poi mio fratello Tupac Che è diventato coso Come si chiama il tizio Bill Cosby No io stavo pensando a Comunque possiamo dire Che Tupac Da morto È invecchiato Da un'ingiente artificiale Da una pista Tre quarti Dei rapper contemporanei Sembra coso Quello che ha fatto Oh cazzo Durante il Super Bowl Chi c'era che cantava Con quella mega console Sul camion Dottor Dre Sì Sembra Dottor Dre Se tu veramente Non ti ricordavi Il nome di Dottor Dre Eh lo sai Come sono i nomi Va bene Simo Eh lo so ragazzi Perfetto Comunque tra l'altro Ha suonato California Love Di Tupac Esatto Forse uno spoiler Dell'intelligenza artificiale Forse uno spoiler Che Dottor Dre Ci sta per No Salutiamo Dottor Dre Invitato al podcast Sempre Come sempre Che mi devi spiegare Come su da sto mixer Che non ho ancora capito Vorrei vedere Come saremo noi Con un'intelligenza artificiale Da vecchi Beh in realtà Esistono le app apposta No però Vorrei vedere Come l'intelligenza artificiale Ci crea da vecchi Facciamo generare La copertina Di questa puntata Da un'intelligenza artificiale Sì Andato Perfetto Vediamo Lo faremo così Il bello della diretta Allora Abbiamo La pieni due Va bene Quindi Little Camera Fotocamera Poi abbiamo Nettuno Nettuno Abbiamo Celebrità Defunte Esatto E le altre E vabbè Io e te Quindi mettiamo Emanuele e Simone Il resto non lo mettiamo Perché se no Spoileriamo il resto Della puntata Assolutamente Poi mettiamo 4k Cos'è sta Metto un po' di cose Perché album cover No non mettiamola questa Vai proviamo un po' a vedere cosa succede Ho paura ragazzi La copertina della puntata di oggi Come ha fatto a trovare la pieni due Io voglio sapere come Questa sarà la copertina Non credo proprio Già Ampitech con la pieni due Questi siamo noi due Eccoci qua Con Questo è Neptem Bellissimo Cioè Poi non so chi sono loro Ma loro chi sono Ma è perché c'è Greta Menchi qui Questo è Orce GP Euto Vabbè Comunque Grazie mille Non ho parole veramente Unico Va bene Teniamo Facciamo che la facciamo a noio No 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 Deve essere proprio questa La copertina Non penso proprio Comunque Invece Manu Notizie finalmente interessanti Cioè le camera analogiche Forse diventano di nuovo utili Diciamo che ci sono certe volte Dove L'elezione della Meloni Non è la notizia peggiore Ma? Ma Hanno inventato un accessorio Per utilizzare iPhone Come sensore Comodo girare con sta roba Per le fotocamere analogiche Non fai prima a usare iPhone Per scattare Ma non fai prima Andartene a fan Vabbè Comunque Il nostro fratello Di DigiSwap Hanno presentato Questa roba Che è agghiacciante C'è veramente Una cloaca Dove tu inserisci Questa roba Penso stampata in 3D marcia Perché questo è il look Che ha Dietro la tua macchina fotografica Al posto del rullino E utilizzi iPhone Per scattare Tremendo Una roba agghiacciante Tremenda Spero davvero Che questa roba Fallisca Prima ancora di iniziare Perché è orribile Ma poi comodo Cioè la fotocamera Diventa larga così Ma poi come cazzo fai A scattare In maniera sensata Ma poi perché dovresti farlo Ma poi come lo metti L'occhio lì Che c'è un iPhone Devi fare tipo Vabbè Se volete ottenere Lo stesso effetto Ragazzi Impossibile Da distinguere La differenza E vi posso garantire Che gente che c'è cascata Scaricate Dudscam Sull'iPhone Pagate Quello che cazzo costa E avete letteralmente Ogni tipo di fotocamera La magia La magia La magia Beh me ne frega Della magia Non sono Gesù Cristo Vabbè ma non abbiamo Più niente da dire Che notizze fotografiche Tristi però Ma Simo Dimmi Dopo l'ultima Che abbiamo fatto vedere Eh Perché c'è questo Cane che abbaia Zitta Funisce qui questa puntata Queste sono tutte le notizie Che tu hai trovato In questo fondo del barile tremendo No poi c'erano quelle interessanti Ma a noi non interessano Esattamente Quelle serie Vogliamo soltanto Il peggio del peggio ragazzi Ragazzi Ricordatevi che C'è Richard Avedon In mostra a Milano Andate a salutarmelo Mi raccomando Mi raccomando Andate Imparate Studiate i grandi Della fotografia Ma non dimenticatevi Di scattare Perché se no Non sarebbe più o meno Mi raccomando Leggete tanti libri E non fate foto Bene ragazzi Signori Grazie a tutti Per essere arrivati fin qui Mensafuoco Come sempre Vi auguro un buon lunedì Fatto pure la rima Sono matto oggi Veramente un artista E noi ci vediamo In un prossimo episodio Come ogni volta Alle sette del mattino Tutti lunedì Nelle vostre case Buona giornata Oh 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 Sarokote!